Restituire lo stadio Landieri ai ragazzi di Scampia? Questo non è più che un progetto, è una realtà. Più che altro invece col Ministro che ci siamo visti oggi nel mio ufficio abbiamo messo a punto i tempi per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e nuove realtà sul territorio, nei quartieri di periferie, da piscine, campetti e aree presso le scuole. Già da settembre tutto questo partirà. Questo è frutto di una collaborazione istituzionale importante tra la città di Napoli e il Governo e il Ministro Spadaforo. Diamo un numero di quanti saranno i impianti che potranno essere? Sono accordi che faremo un incontro. Il primo sarà il 5, mi pare, di settembre nel quartiere San Giovanni. Grazie.